Io la scorsa settimana sono rimasto... Non si è palesato a un incontro? No, sono rimasto basito. Noi abbiamo fatto... Oggi noi facciamo la comunicazione sulla sanità toscana, dovevamo fare la settimana scorsa. Però era stato chiesto dalla maggioranza dei più vaccinari. Perché la maggioranza era chiesto di portarla ad oggi. Sì. In cambio avevano detto che le interrogazioni che avevamo fatto all'assessore Bezzini le facevamo mercoledì mattina perché lui martedì pomeriggio non c'era. Mercoledì mattina? Mercoledì mattina non c'era. Per un impegno magari? No, non so. Per rispondere alle mie interrogazioni, a quanto ammonta il buco di bilancio? Punto interrogativo. Non c'era. Ma l'ha mandata per iscritto. Volete sapere la risposta? Ci vediamo il 2, te lo dico in aula. E' accettabile secondo lei? No, questo lo dice ai giornalisti. Con tutto il rispetto per i giornalisti. A un giornalista gli racconti quello che vuoi. Non è una risposta all'interrogazione. L'ammanco che purtroppo continua a tenere banco. Una rima alle volte può fare anche sorridere, ma non se questa viene usata per descrivere una delicata situazione come quella in cui verte il bilancio della sanità toscana e a preoccupare soprattutto il fatto che nessuno riesca a quantificare esattamente a quanto ammonti il dissesto sul banco degli imputati. L'assessore al diritto alla salute della regione, Simone Bezzini, che fino ad oggi, almeno secondo l'opposizione, ha sempre eluso domande scomode, riuscendo a sfuggire abilmente al dovere di fornire risposte chiare. Risposte che arriveranno, o almeno dovrebbero arrivare, questo pomeriggio, quando l'assessore sarà in aula per la sua comunicazione. Erano parole dure nei confronti di un sistema di cui l'assessore Bezzini deve decidere se fare ancora a lungo il capro espiatorio o se fare un passo di lato e lasciare la gestione e la sanità a una persona che sappia quello che deve venire a raccontare sulla sanità toscana. Però se lei mi parla di capro espiatorio vuol dire che, passatemi il termine, detto prosaicamente, è stato messo lì appositamente l'assessore Bezzini perché è inadeguato a svolgere questa cosa. Se qualcuno pensa che l'assessore Bezzini sia a fare l'assessore della sanità toscana perché è la persona più competente che il Partito Democratico in Italia Viva, cioè la coalizione che ha vinto le elezioni, avessero in casa per gestire la sanità toscana in clima di pandemia, lo dica. Io non ho ancora sentito una parola su questo tema.